In questi giorni di prova, mentre l'umanità trema per la minaccia della pandemia, vorrei proporre a tutti i cristiani di unire le loro voci verso il cielo, recitare il Padre Nostro mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno. Venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiderò un momento di preghiera sul Sagrato della Basilica di San Pietro. Con la piazza vuota. Fin d'ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento con il quale al termino darò la benedizione, urbi e torbi, a cui sarà innessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Grazie. 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 Grazie.